Salve a tutte e tutti, bentrovate e bentrovate alla nuova puntata dei dialoghi di Pandora Rivista. Nella puntata di oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi la professoressa Elena Esposito, sociologa dei processi culturali e comunicativi, professoressa ordinaria all'Università di Bologna e all'Università di Bielefeld, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche all'estero e in Italia sul tema della sociologia, dell'intelligenza artificiale, sulle conseguenze sociali degli algoritmi e soprattutto autrice del libro che andremo a discutere nella puntata di oggi. Il libro di cui parliamo è Comunicazione artificiale, come gli algoritmi producono intelligenza sociale, edito in inglese per MIT Press e in Italia per Bocconi University Press. Durante la puntata di questa sera con la professoressa Esposito affronteremo i temi del libro, in particolare l'impatto degli algoritmi predittivi, che cosa intendiamo per intelligenza artificiale e che cosa non intendiamo per intelligenza artificiale. Vi ricordo che se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi ai canali social di Pandora Rivista, a cominciare dal canale YouTube e possiamo cominciare subito dopo la sigla. Professoressa Esposito, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per la possibilità di parlare con voi. Cominciarei subito con la prima domanda che va subito al centro di uno dei temi del libro che discutiamo oggi. La domanda che vorrei porle riguarda proprio l'intelligenza artificiale, l'idea di intelligenza artificiale. All'inizio del suo libro lei critica la metafora con cui normalmente intendiamo algoritmi predittivi e machine learning, che è appunto la metafora dell'intelligenza umana. Se dal suo punto di vista perché è ne adeguata questa metafora. E in secondo luogo, in seconda battuta, lei propone il concetto di comunicazione artificiale, di spostare la nostra attenzione sulla comunicazione con queste macchine, con gli algoritmi. Ecco, perché e cosa intende con questo concetto? Che cosa intende con questo concetto e quali riferimenti teorici, quali teorie l'hanno ispirata nello svilupparlo? Sì, sì, senz'altro. No, quello è il punto centrale del libro. E non è che io critichi il concetto di intelligenza artificiale, perché è un concetto che ci ha accompagnato da almeno 50 anni, da quando abbiamo, tentiamo di produrre con le macchine l'elaborazione delle informazioni. e è abbastanza plausibile che uno tende a ispirarsi all'intelligenza, perché finora l'unico ente, diciamo, macchina o non macchina, insomma, che era capace di elaborare informazioni in modo efficiente, in modo creativo, erano gli esseri umani dotati di intelligenza. Poi quando si comincia a elaborare con le macchine l'informazione, viene spontaneamente riferissi all'intelligenza e l'idea di riprodurre con le macchine le forme dell'intelligenza umana ci ha accompagnato ormai da una cinquantina d'anni. Non è che io critichi questo approccio, ma mi è sembrato di notare, anche lavorando a Biller, lavoriamo strettamente a contatto con programmatori, computer scientists, per un progetto che stiamo facendo lì sulla previsione, mi è sembrato di notare che, diciamo, da 10-15 anni l'approccio è cambiato e curiosamente proprio nel periodo in cui le macchine sembrano veramente essere capaci di comportarsi in modo intelligente. quello che sperimentiamo tutti i giorni, insomma, gli algoritmi ormai rispondono al telefono, scrivono libri, riconoscono immagini, compongono testi, producono opere d'arte, superano il test di Turing in modo così pervasivo, di continuo, insomma, la gente gioca a videogiochi interagendo con bots senza nientersene conto, insomma. Per cui a quanto pare le macchine sembrano essere diventate intelligenti. Però se si va a vedere come sono programmati questi nuovi algoritmi, si vede che l'intelligenza non è più lo scopo e neanche l'obiettivo della programmazione. Cioè questi algoritmi non cercano di riprodurre l'intelligenza umana, fanno cose radicalmente diverse. Sono questi nuovi algoritmi che lavorano col machine learning, cioè le macchine che apprendono da sole, decidendo da sole come apprendere e cosa apprendere, e che lavorano con queste grandi quantità di dati che circolano sul web, i cosiddetti big data, che sono prodotti in gran parte dal nostro comportamento, dai sensori, dall'internet delle cose, dati confusi e sovrabbondanti, non puliti, complessi e così via. E utilizzando questi materiali le macchine riescono a produrre un comportamento a che appare intelligente. Ma non appunto perché cercano di copiare la nostra intelligenza, ma semplicemente perché con queste capacità di machine learning vanno a cercare nei dati questi pattern, queste configurazioni, che consentono loro di produrre un comportamento che risulta intelligente per gli interlocutori, senza che la macchina appunto riproduca le nostre forme, insomma. La cosa è un po' confusa perché spesso le metafore sono neural networks e così via che in realtà servono ai programmatori per ispirarsi, ma a me sembra comunque una metafora curiosa perché noi sappiamo pochissimo di come funziona il cervello, per cui pensare di riprodurre con una macchina qualcosa che non capiamo è un programma se non altro bizzarro, insomma. L'idea di spostarsi sulla comunicazione è perché si potrebbe pensare, a mio parere, e il libro cerca di testare questa ipotesi, che i processi della macchina possono essere interpretati come capacità delle macchine di comunicare con noi qualcosa che diventa informativo per ricevente. E così, ho tentato di sperimentare questa cosa in vari casi di utilizzo dei computer. Lei mi chiedeva il retroterra teorico, sono una sociologa e faccio riferimento da decenni alla teoria di Nicholas Luhmann, che è un sociologo così, in alcuni posti molto famosi, in altri posti meno, insomma, comunque molto rilevante per l'evoluzione della disciplina. E qui ho utilizzo Luhmann non perché si è appezionata Luhmann, anche se lo sono, ma perché mi sembra che la sua teoria serve proprio per esaminare in modo più efficace questo fenomeno, insomma. Perché Luhmann adotta un concetto di comunicazione che devia dalla maggior parte degli approcci correnti, perché secondo Luhmann la comunicazione avviene, non tanto quando condividiamo un pensiero con il nostro interlocutore, ma quando in forme piuttosto complesse ciascuno dei partecipanti alla comunicazione produce le proprie informazioni che sono solo sue e non necessariamente rispecchiano quello che l'altro aveva in mente. Per cui è un concetto che può servire per spiegare, per ipotizzare una comunicazione con un interlocutore, qual è l'algoritmo, che non pensa, che non è intelligente, che non ha dei processi che ne dobbiamo in qualche modo comprendere nel partecipare alla comunicazione. Grazie mille professoressa e parlando di comunicazione credo che l'esperienza quasi quotidiana che ormai facciamo tutti con gli algoritmi a livello di comunicazione è quella della personalizzazione della comunicazione, lo sappiamo bene nell'attività che facciamo su internet e non solo, siamo profilati dalla profilazione sui social a quella dei motori di ricerca, pensiamo all'algoritmo di Google PageRank per esempio, siamo profilati e questo permette una personalizzazione, una individualizzazione dei contenuti che poi andiamo a vedere. Ecco, possiamo dire che la standardizzazione che era tipica dei mass media, della società di massa, adesso sta cedendo il passo a questa personalizzazione oppure il quadro è più complesso? Ma sono entrambe le cose, insomma, perché la standardizzazione della comunicazione come la conoscevamo diciamo negli anni, negli anni settante, insomma il modello broadcast, un unico emittente attivo e una molteplicità di riceventi passivi che non possono intervenire in nessun modo sulla comunicazione, ormai è effettivamente superato, insomma. Però io ricordo i discorsi che si facevano, le promesse, le speranze che si avevano all'inizio degli anni 2000, quando ha cominciato ad apparire queste forme di personalizzazione, ci si aspettava una comunicazione, si parlava di prosumer, si parlava di un'idea del superamento del modello del ricevente passivo, del superamento del modello della cosiddetta couch potato, il ricevente che sta sul divano e così si prende quello che passa nel convento e non interviene in nessun modo, insomma. E si parlava allora della possibilità di rendere ciascuno dei riceventi un individuo attivo, propositivo, che così configura la comunicazione come preferisce, che riceve proprio un mondo con piena libertà di espressione. Adesso dopo la ventina d'anni vediamo che le cose effettivamente, come diceva lei, sono molto più complesse, perché è vero che siamo più attivi, senz'altro, del modello precedente, però non sempre e non nella forma che magari ci aspettavamo, perché la personalizzazione in molti casi non implica un interlocutore o un ricevente attivo. In molti casi, i modelli che lei citava, più che personalizzare, siamo personalizzati. Ci sono algoritmi che lavorano a tutti i dati, producono un modello di noi stessi e ce lo presentano. In quello noi siamo tanto passivi, direi, quanto erano le couch potatoes negli anni sessanta, insomma, anche se in un modo differente. D'altra parte la standardizzazione che si pensava sarebbe stata superata completamente, insomma, si pensava che gli individui sono passivi, la comunicazione è uguale per tutti, semplicemente perché il mezzo non consente di fare altro, insomma, la standardizzazione non ha nessun valore. Ecco, si vede che la standardizzazione è risolta che tutto è rimasto. Continuiamo a ricercare delle comunicazioni che sono in qualche modo uguali per tutti e per noi sociologi la cosa è abbastanza evidente, perché appunto la comunicazione è uguale per tutti, crea anche quel mondo sociale condiviso che è anche la base dell'opinione pubblica come la conosciamo. Grazie. E abbiamo parlato di internet, di mondo sociale condiviso, quindi anche in un certo senso di quello che va a costituire la memoria ed è proprio su questo che vorrei concentrare la prossima domanda. e sappiamo che una delle peculiarità, delle potenzialità di internet è quella appunto di registrare in potenza ogni cosa, di non lasciare nulla indietro. Ecco, quali sono le conseguenze di un mondo in cui ogni cosa diventa potenzialmente indimenticabile, non nel senso positivo del termine, nel senso di straordinario, eccezionale, ma nel senso proprio di impossibile da dimenticare. Dobbiamo rinunciare a quello che abbiamo chiamato diritto all'oblio oppure siamo condannati, un po' come accennava nel libro riprendendo la metafora del Funes di Borges, quel personaggio che dopo un incidente è costretto a ricordarsi tutto. Sì, questo secondo me è uno degli aspetti più curiosi e più affascinati, a mio parere, dell'uso degli algoritmi, perché si potrebbe dire che gli algoritmi invertono il rapporto fra ricorda e dimenticanza che ha sempre fatto parte della nostra memoria. La memoria non è fatta solo di ricordi. Per avere una memoria efficace deve essere capace di ricordare e deve essere capace anche di dimenticare. Funes e memorioso non è che ricordava tutto, ma non tanto per ricordarsi tutto, era incapace di dimenticare. E si è visto che ricordare tutto, nell'esempio nel racconto di Borges, ma c'è anche un librino di Luria bellissimo su questo, insomma, una persona che ricorda tutto non ha una memoria eccezionale, è semplicemente malato, ha una memoria difettosa, una memoria che non funziona come si dovrebbe. Comunque dicevo, gli algoritmi invertono quella che è stata la legge della nostra società fino dall'inizio della scrittura, prima della scrittura, insomma. L'idea che l'aspetto della memoria su cui ci si deve concentrare sia il ricordo, mentre la dimenticanza procede da sola. Se noi non facciamo niente, dimentichiamo, mentre dobbiamo impegnarci con la tecnica mnemonica, con la scrittura, con la stampa, con tutti i dispositivi che la società mette a disposizione per non perdere ricordi e per contrastare la dimenticanza. Adesso con Inter sta venendo il contrario, perché come diceva lei, gli algoritmi o anche semplicemente tutti gli strumenti che utilizziamo tutti i giorni, normalmente ricordano tutto. Pensate solo alle esperienze che facciamo tutti i giorni con le email, con i messaggi. Dobbiamo decidere di cancellare i messaggi, cioè quello che richiede attenzione, attività, impegno è la dimenticanza. Cancellare ricordi, non mantenerli perché appunto su internet e nelle forme digitali tutto viene in qualche modo conservato. Questo ha dei vantaggi e anche dei notevoli svantaggi, come diceva lei. Il diritto ad obbligare l'obbligo è diventato un tema di discussione pubblica nel 2014 perché appunto la comunità europea ha stabilito una normativa per cercare di proteggere tutti noi, gli utenti del web, da questo eccesso di ricordo, di preservazione dei ricordi e nella forma digitale. Cosa l'odevolissima ma molto complicata, perché se posso dire qualcosa su questo, insomma, c'è una simmetria fra ricordi e la dimenticanza, che essendo a Bologna, bisogna ricordare, è stato osservato in modo molto arguto, come spesso da Umberto Eco, che si è occupato del fatto che abbiamo da un paio di millenni molte forme di ars memorie, ma non abbiamo un ars oblivionalis, non abbiamo una tecnica che ci consente di dimenticare in modo efficiente. Ma questo non perché non ci abbiamo pensato, perché, e questa è l'arguzia anche di Eco, ma di molti discorsi su questo, si può avere una tecnica per ricordare, ma se si cerca di avere una tecnica per dimenticare, la prima cosa che si rafforza è ricordo. Per esempio voglio dimenticare qualcosa, devo pensare a questo contenuto e poi dopo impegniamovi per dimenticarlo, per cui insomma un ars oblivionalis è in qualche modo un paradosso, uno simoro. La sfida adesso è con gli algoritmi cercare di realizzare delle forme di dimenticanza che siano praticabili, che siano efficienti, che non siano appunto qualcosa che danneggia più dei vantaggi che produce. A proposito di dimenticare, uno degli strumenti che apparentemente utilizziamo per non dimenticare mai nulla è quello delle foto, una delle pratiche digitali a cui grazie allo smartphone ci siamo più abituati, che più abbiamo normalizzato. Lei ne parla nel suo libro e c'è una frase che ho trovato molto potente e che vorrei commentasse. Non produciamo immagini per preservare il presente, ma per sfuggire il presente. Che cosa intende? Ma sì, questo è un po' un esperimento a partire da un'osservazione appunto quotidiana che facciamo tutti. la pratica, la diffusa esperienza del turista che magari di fronte a un paesaggio, di fronte a un quadro in un museo, così, passa davanti a questa immagine, fa una foto e scappa via senza neanche guardarla. Insomma, in qualche modo come se fare la foto che poi verrà postata sul web e la trasmessa da altre persone ci consentisse di sottrarci al peso dell'esperienza, perché l'esperienza è diretta e bellissima, ma come diceva anche Susan Sontag che l'esperienza uccide, insomma l'esperienza è un honor, responsabilità, un peso e così via. Facendo la foto uno in qualche modo dice ma non si sa bene cosa pensi uno, però l'idea sia che si sottraia questo honor del presente rimandando ad un altro momento, ma molto spesso ad altri, l'elaborazione dell'esperienza, perché le foto mentre le foto analogiche venivano scattate per essere conservate, quelle poche immagini, cose che si pensava valesse la pena di preservare, quelle digitali spesso vengono cancellate, pensate a Snapchat o questi fenomeni molto diffusi o comunque vengono postate per essere trasmesse a qualcun altro, insomma. Per cui ho pensato che varrebbe la pena di riflettere su come così il rapporto fra la preservazione dei ricordi e l'esperienza del presente sia anche questo cambiante la nostra epoca digitale. Un altro strumento che storicamente è stato utilizzato per ricordare è quello delle liste. Lo vediamo, siamo circondati da liste nella nostra vita quotidiana, dai ranking delle università, le classifiche sulle varie app per dove andare a mangiare, eccetera. Ecco, questo è un tema di cui parla nel libro e com'è che questa diffusione delle liste si lega al crescente uso di algoritmi predittivi? Ancora una volta citerei Eco perché sembra una bella esperienza. Eco diceva internet pensa nella forma delle liste. Lo diceva, ma non lo spiegava. Per questo è evidente che nella cultura digitale le liste si riproducono da tutte le parti, mentre nella cultura della stampa le liste erano poco diffuse. Nei libri in forma scritta non si usano tanto le liste, si possono usare dei discorsi di altro genere, ma la forma della lista che era tipica della civiltà priva della scrittura o all'inizio della scrittura, per molti secoli, per qualche millennio è stata un po' marginalizzata e oggi nella forma digitale torna, è tornata in auge, è tornata a diffondersi sempre di più. Gli algoritmi funzionano come liste. Gli algoritmi sono delle liste di comandi e producono anche dei risultati in lista. Pensate ai risultati di Google che ci dà i primi dieci in lista, ai ranking che si diffondono da tutte le parti. perché? Io ho provato a sperimentare con l'idea, a lavorare con l'idea che risale a un antropologo, Jack Goody, o comunque a ricerche in campo antropologico, a mio parere molto interessanti, che le liste siano efficaci proprio per consentere di organizzare dei dati senza presupporre un ordine. Goody diceva che l'ordine risulta una conseguenza dell'ordinamento in lista, non è una premessa. Gli sequenza piuttosto casuale, una volta scritta la lista si possono individuare le regolarità, le configurazioni, i patterns che sono proprio il tema che si usa sempre sempre in riferimento agli algoritmi. L'ipotesi è che gli algoritmi che lavorano senza un ordine presupposto, senza necessariamente comprendere i dati su cui operano, possano approfittare dell'organizzazione in liste in modo analogo a quello che accadeva in civiltà molto, molto più antica. Un altro dei temi centrali del suo lavoro è quello proprio della capacità predittiva degli algoritmi. Innanzitutto una doppia domanda. La prima è che differenza c'è tra gli algoritmi predittivi di oggi e gli strumenti classici della statistica che hanno permesso lo sviluppo scientifico dell'età contemporanea negli ultimi secoli, sostanzialmente. E in secondo luogo, quali sono le conseguenze sociali di un'umanità, di una società che si fida sempre di più delle previsioni di questi algoritmi, a volte quasi in maniera religiosa, oserei dire? La prima domanda fa riferimento a un tema molto, molto ampio che riguarda non solo la previsione, ma l'uso di questi algoritmi che si basano sul machine learning in generale. E molti dicono che negli ultimi 10-15 anni c'è stata una specie di scissione, nell'ambito di quelli che lavorano in campo informatico, dei data scientist, fra coloro che continuano ad utilizzare tecniche statistiche tradizionali e quelli che pur utilizzando strumenti informatici si rivolgono più al machine learning, agli algoritmi che lavorano appunto in modo diverso, utilizzano big data, utilizzano questi algoritmi spesso incomprensibili, che lavorano effettivamente in modo radicalmente differente. Si parla addirittura di due tribù, la tribù dei statistiche tradizionali e la tribù dei machine learners che operano in modo diverso. Ecco, i machine learners, tolando la sua domanda, tendono molto spesso a rivolgersi alla previsione più che alla spiegazione, mentre lo scopo della statistica, ci sono dei testi che lo dicono quasi letteralmente, lo scopo della statistica era spiegare e lo scopo dei machine learning molto spesso è prevedere. Questa è una notevole cesura nei modi di lavorare con i dati, che è legata al fatto che sempre nello stesso periodo la previsione sta diventando sempre più importante. Queste tecniche di predictive analytics che si stanno diffondendo in molti campi della nostra vita, pretendono, tentano di individuare quello che accadrà nel futuro a partire dai dati presenti, individuando i patterns disponibili in queste informazioni che circolano. Questo vuol dire un rapporto col futuro veramente differente e anche, e questo qui parlo da sociologo, insomma, anche un attivo alle quantità di rischi, perché bisogna ricordarsi che le forme probabilistiche di previsione sono fondamentali in molti ambiti della nostra società. Il progetto che si sviluppano a Bilef lavora su tre ambiti, l'assicurazione, il campo della medicina, il cosiddetto policing, in cui finora sono sempre stati utilizzati dei procedimenti di tipo probabilistico, statistico. E ora l'idea di poter intervenire con previsione algoritmica cambia fino alle radici il modo di lavorare in questi ambiti, offrendo grandi opportunità ma anche notevoli rischi. Lei faceva riferimento all'aspetto religioso, semi-religioso di uso degli algoritmi. Ecco, più che di religione, io parlerei di una curiosa, ancora abbastanza misteriosa affinità fra le tecniche algoritmi e le procedure delle antiche pratiche divinatorie, delle civiltà alla Mesopotamia, all'antica Grecia e così via, che sembra un accostamento molto rischioso, ma effettivamente il parallelo viene fatto spesso. Si parla spesso degli algoritmi come oracoli. Si dice spesso che gli algoritmi consentono di vedere il futuro, di superare la barriera tra il presente e il futuro, proprio con delle formulazioni che ripropongono quasi letteralmente quelle che erano le promesse dell'adivinazione. E tra l'altro, se si va a vedere il funzionamento degli algoritmi, questo sospetto, questo parallelismo diventa ancora più concreto, perché mentre le forme di previsione a cui noi siamo abituati fanno riferimento alla media della popolazione, le tecniche probabilistiche ti dicono che media della popolazione avrà un incidente in un determinato periodo, rischia di ammalarsi, comprerà un determinato prodotto e così via, gli algoritmi consentono di fornire delle previsioni individualizzate, cioè dicono quale specifico individuo comprerà un determinato prodotto, in che anno e in che circostanze. Questo è dovuto al modo in cui lavorano, al modo in cui lavorano con i dati, in cui lavorano con i materiali statistici e così via. Ecco, questo aspetto riproduce quello dell'adivinazione, perché anche l'adivinazione faceva delle previsioni che riguardava uno specifico individuo o uno specifico evento, conviene fare la battaglia domani, mia moglie avrà un figlio maschio dopo tante femmine, il mio matrimonio andrà bene e così via. L'adivinazione non dava delle indicazioni sulle medie, su dei gruppi di popolazione, ma solo specifico individuo in una determinata circostanza. Inoltre i meccanismi dell'adivinazione erano oscuri. Nessuno sapeva cosa aveva in testa la divinità o perché il destino sarebbe andato in questa direzione. Oscuri come anche sono oscuri le procedure degli algoritmi, perché questi algoritmi appunto di machine learning, come dicevamo prima, spesso sono incomprensibili non solo per me, che non so programmare niente, ma anche per gli stessi programmatori che li producono. Con l'ultima domanda vorrei che tornassimo all'inizio su intelligenza artificiale e comunicazione artificiale. Noi siamo abituati un po' a livello di immaginario collettivo, oserei dire, della società a vedere il rischio dell'intelligenza artificiale come l'intelligenza artificiale forte, come la singolarità, cioè l'intelligenza artificiale che appunto per chi intelligente, nel senso umano del termine, riesce a superare l'essere umano, a metterlo in grande difficoltà. Pensiamo ad Al 9000 di 2001 di Sennelo Spazio, di Kubrick o più recentemente ad Ava, la protagonista di Ex Machina fin del 2015. Ecco, come cambia sia l'immaginario collettivo che le possibilità di rischi e di pericoli se parliamo di comunicazione artificiale? Abbiamo detto che mettiamo da parte il focus sull'intelligenza umana, se ci concentriamo sulla comunicazione, quali sono i possibili rischi, quali sono le cose da attenzionare e a livello sociale su cui stare allerta? I rischi ci sono e ce ne sono tanti e vengono studiati adesso in modo per cui tante volte non siamo veramente attrezzati. Ecco, la cosa un po' rassicurante è che i rischi di cui ci siamo occupati negli ultimi decenni, a mio parere non sono veramente preoccupanti, o almeno non sono quelli che mi tengo a svegliere di notte. La singolarità, il timore che queste presunte intelligenze delle macchine diventano talmente efficaci da acquisire autonomia, da disobbedire i nostri ordini, entrare in competizione con l'intelligenza umana che vengono spesso presentate nei film e che sono molto molto spesso discusse. Ecco, a me, a parte tutto, non sembrano nemmeno realistiche, insomma, perché le macchine, appunto, come dicevamo prima, non sono costruite per essere intelligenti, non intendono essere intelligenti e non vedo nessun motivo di pensare che sviluppi una loro coscienza, una loro intenzionalità, come si discuteva appunto negli anni 80-90 sulle AI forte, le AI debole, l'imitazione della simulazione. Le macchine fanno ormai qualcosa di completamente differente, per cui la volontà, l'intelligenza delle macchine, la competizione con l'intelligenza umana non mi sembra più un punto cruciale. Questo non vuol dire che non c'è niente di cui preoccuparsi, perché in primo luogo la grande e misteriosa questione è dell'opacità delle macchine, perché appunto queste macchine, come dicono i programmatori, sono così efficienti, raggiungono questi risultati strabilianti utilissimi in molti campi. Dicevo che noi lavoriamo nel campo medico dove si vedono effettivamente risultati straordinari da tanti punti di vista. Si basano proprio sul fatto che le macchine si programmano da sole, e si programmano da sole in modi che appunto i programmatori non avranno previsto e che molto spesso lavorano su talmente tante dimensioni che anche gli esperti non possono capire come la macchina arriva a questo risultato. Il che è affascinante da certi punti di vista, ma è evidentemente molto problematico, perché questi risultati delle macchine che vengono aggiunti con procedure che noi non comprendiamo, non necessariamente sono sempre giusti, è quello il problema. In molti casi sono magari più giusti degli esperti, però appunto le macchine non indovinano sempre, per cui dovrebbe trovare dei modi, e ci sta impegnando molto adesso per controllare la correttezza dei risultati delle macchine indipendentemente dalla comprensione. Per cui si fanno degli incroci paralleli, si fanno delle varie procedure estremamente ingegnose, perché i computer science sono estremamente ingegnosi, per riuscire a controllare se il risultato dell'algoritmo o la previsione dell'algoritmo è corretta, pur essendo incomprensibile per noi la procedura con cui la macchina ci è arrivata. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto estremamente preoccupante collegato con quello è la questione molto discusso del cosiddetto bias, cioè gli algoritmi non sono oggettivi. Anche se gli algoritmi non hanno una loro volontà, non hanno loro desideri, così nessuno dice che i risultati siano oggettivi, per vari motivi. Le macchine sono comunque costruite da qualcuno, da programmatori, in America si dice sempre sono bianchi, maschi e così via, ma comunque hanno una prospettiva che li porta a privilegiare, coscientemente o non coscientemente, in buona fede o in cattiva fede, a privilegiare certi aspetti e questo è inevitabile. Quindi c'è un bias nella costruzione delle macchine, ancora più grave e ancora più misterioso un altro bias, il cosiddetto bias dei dati, perché le macchine lavorano con una quantità enorme di dati che trovano spesso sul web e sul web c'è di tutto, è una grande quantità di porcherie come sappiamo. Per cui elaborando questi materiali, l'algoritmo senza avere una sua intenzione tende a riprodurre appunto i pregiudizi, le disuguaglianze, tutte le cose riprovevoli che vengono riversate sul web. Per cui riuscire a controllare e gestire questo bias è effettivamente una sfida per la programmazione veramente enorme e che ci occuperà ancora per molto tempo. Grazie professoressa Esposito, grazie delle risposte, grazie di essere stata con noi. In questa puntata abbiamo approfondito il tema dell'intelligenza artificiale e soprattutto della comunicazione artificiale. Abbiamo affrontato alcune delle tematiche più importanti dall'emergere di nuove pratiche, dall'individualizzazione della comunicazione alle foto, alla questione della memoria e alla fine, cosa forse più importante, i potenziali rischi che questa comunicazione artificiale potrebbe porre, anzi già pone, alle nostre società. Io vi ringrazio tutte e tutti per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata dei dialoghi di Pandora rivista. Grazie per aver guardato questo dialogo, se l'avete apprezzato lasciate un like e se volete essere aggiornati su tutti i nuovi video di Pandora rivista iscrivetevi al canale, è anche un modo per supportare il progetto.